Pasta e patate alla napoletana è un tipico primo piatto della tradizione popolare meridionale, un piatto gustoso, caldo e confortante che conquista tutti. Ma come nasce? Facciamo un po' di storia. A Napoli nel XVII secolo pochi prodotti si trovavano a buon mercato e in grande quantità come la pasta e le patate. In tutta la campagna la produzione di pasta era un'attività consolidata da secoli e le botteghe erano ricche di paste vendute in diversi formati. Le patate arrivarono invece in Italia solo nel 1500, importate insieme ai pomodori dopo la scoperta dell'America. Si scoprì così che le patate e i tuberi importati dal nuovo continente si adattavano perfettamente al clima del sud e iniziarono a essere coltivati in grande quantità. Le patate e la pasta erano quindi alimenti facilmente reperibili e a buon mercato, insomma, erano gli ingredienti perfetti per creare una ricetta che diventerà diffusissima tra le famiglie popolari di Napoli. Pasta e patate, con l'unione dei suoi due carboidrati, erano infatti un piatto sostanzioso ed energetico, perfetto per nutrire e saziare dopo una giornata di lavoro. La prima testimonianza della pasta patate e provola si trova nel libro Cuoco Galante di Vincenzo Corrado, che nel 1773 ci lascia la prima ricetta del tanto amato piatto. Da lì questa ricetta si diffuse in tutta la campagna facendo innamorare le famiglie con la sua bontà. Ma ora pensiamo alla lista della spesa per cucinare questo buonissimo piatto. Gli ingredienti per 4 persone sono 400 g di pasta mista, 500 g di patate, 100 g di pomodorini, una cipolla, una costa di sedano, una carota, 60 g di pancetta tesa a dadini, 3 cucchiai di olio extravergine di oliva, una crosta di parmigiano, sale quanto basta, pepe quanto basta, 100 g di provola affumicata. La preparazione è la seguente. Iniziamo tagliando la pancetta a dadini, poi tritiamo il sedano, la carota e la cipolla e versiamo il tutto in una pentola con 3 cucchiai di olio, facendo appassire. Quando le verdure saranno rosolate, uniamo i pomodorini tagliati a spicchi e facciamo asciugare. Sbucciamo e tagliamo le patate a dadini e versiamole nella pentola con sale, pepe e due mestoli di acqua. Portiamo a bollore e uniamo la crosta di parmigiano. Proseguiamo la cottura per 30 minuti. Trascorso questo tempo, se necessario, versiamo un altro mestolo di acqua e successivamente uniamo la pasta. Cuociamo la pasta per il tempo indicato sulla confezione, mescolando spesso a fuoco medio, noteremo che le patate inizieranno a sciogliersi rendendo il fondo di cottura cremoso. Quando la pasta sarà al dente, togliamo dal fuoco la pentola e aggiungiamo la provola a dadini, amalgamando bene il tutto. A questo punto, la pasta e patate è pronta, trasferiamola nei piatti e serviamola ben calda. Ti ringraziamo per averci scelto, e ti ricordiamo di iscriverti al canale e lasciare un like. Grazie.